Chica a Roma, buongiorno. Buongiorno. Che segreto? Questa è una cosa femminile che a voi non tange per fortuna, perché è un impiccio. Il collante cala. Ah, fastidioso. Noi abbiamo il calzino che cala, cammina nella scarpa. Sì, però non è altrettanto fastidioso. Quando ti senti il cavallo del collante si abbassa e arriva a metà coscia. No, il cavallo a coscia no. Come si fa? Fastidioso. Allora, anche se si è invitati a una festa, a una cena, si sta a casa d'altro, si passa con un chalante dalla cucina o alle brutte si va in bagno, ci si inumidisce le mani e si tira su il collante. Le mani si appiccicano al collante e non c'è pericolo di smagliarlo. E questo l'ha insegnato a me e mia mamma. E un giorno ero appunto a cena, a una cena a casa di amici, e con la padrona di casa ero in cucina e l'ho fatto tranquillamente. Eravamo solo io e lei. Mi sono bagnata le mani, mi sono tirata su le calze. Dico, ma che cosa stai facendo? Dico, eh, mi tiro su lei e il collante. Ah, ma che cosa meravigliosa, non l'avevo mai visto fare. Però vedi, entusiasmo. No, andrebbero fatte delle scuole, dei corsi. Eh sì. Eh, vedi, li fanno la scuola dell'obbligo. Grazie, chicca, ciao! Grazie, grazie. E adesso, amici.